Dicevate di avere i numeri, Presidente Zanda, mi minacciavate durante le riunioni, tolta gli emendamenti perché se no arriviamo noi col Marcucci che facciamo piazza pulita, l'avete detto in più di un'occasione, e adesso, e adesso, e adesso che cosa fate? Vi prendete 48 ore di tempo. E quindi la nostra proposta, Presidente, è una proposta seria e di lavoro. Si lavora subito, si vota subito, si inizia a votare subito, si va avanti secondo il calendario dei lavori. Per il semplice motivo, Presidente, che noi vogliamo iniziare a parlare di cose serie, vogliamo iniziare a parlare di quelli che sono i problemi veri che affliggono gli italiani, i giovani italiani, le giovani coppie italiane, gente che non arriva a fine mese, 10 milioni di italiani sotto la soglia di povertà, il 42% di disoccupazione giovanile che non state risolvendo. E quei disoccupati non sono solo eterosessuali, sono disoccupati omosessuali ed eterosessuali, che forse preferiscono arrivare a fine mese e farsi una famiglia, anziché essere qua a ascoltare le vostre stupidate, Presidente. Di conseguenza la nostra proposta è una proposta, si comincia a lavorare, si voti e se avete la maggioranza, come dite di avere, perché avete fatto gli sbruffoni per due settimane e adesso siete dei caga sotto, se avete veramente la maggioranza, votiamo!